Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo. L'aula di Palazzo Lascaris ha ospitato martedì 5 febbraio, il primo dei momenti dedicati al bullismo che coinvolgono autorità, studenti, insegnanti e famiglie fino al 15 febbraio. Il bullismo, ha dichiarato in aula il presidente Nino Boeti, è una forma di portamento sociale di tipo violento e intenzionale. Certo internet ha aperto nuove possibilità per tutti noi, mettendo in connessione le persone. Ma esiste un'altra faccia di internet che negli anni è emersa in maniera drammatica e tumultuosa, riducendo gli spazi di privacy e aprendo a grandi rischi legati all'uso improprio di questo strumento. Per questo il Consiglio regionale ha approvato nel 2018 la legge sul cyberbullismo, con l'obiettivo di avere informazioni di contesto e capire gli ambiti di prevenzione e intervento. Il primo dato allarmante segnalato dal presidente è la scarsità di dati a disposizione. I dati forniti dal MIUR e dalla Polizia Postale segnalano che per gli studenti il fenomeno è in prevalenza assente o in diminuzione rispetto alla percezione segnalata dai docenti. Novara risulta essere la provincia in cui il fenomeno bullismo è più grave, seguono Alessandria e Vercelli. Al contrario, Cuneo è la provincia in cui, grazie a interventi di prevenzioni mirati, il bullismo risulta essersi ridotto rispetto alle altre province del Piemonte. Autorità, consiglieri e i ragazzi delle scuole hanno poi indossato la spilletta nodo blu, simbolo della campagna nazionale del MIUR, ed esposto tutti insieme cartelli contro bullismo e cyberbullismo. Gli eventi del Consiglio regionale del Piemonte proseguiranno giovedì il 7 febbraio con il percorso didattico per le scuole in mattinata a Palazzo Lascaris. Gruppi musicali e attori teatrali, workshop e progetti interattivi accompagneranno i ragazzi nel cogliere i processi di aggregazione e interazione sociale. Nel pomeriggio l'aula di Palazzo Lascaris ospiterà il convegno Bullismo e Cyberbullismo non insegnano ma segnano, rivolto ai genitori e agli insegnanti.